salve a tutti siete all'ascolto di insider dentro la tecnologia un podcast di digital people e io sono il vostro host davide fasoli oggi proveremo a capire quale sarà il futuro del web e in particolare che cosa sono il web 3.0 e il web 3 prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana vi ricordo che potete seguirci su instagram a chiocciola dentro la tecnologia iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su spotify apple podcast google podcast oppure direttamente sul nostro sito la corte di cassazione ha annullato l'ingiunzione della sanzione amministrativa del garante privacy all'inps per il trattamento dei dati personali riguardanti il software di intelligenza artificiale denominato data mining savio la corte ha affermato la piena legittimità dell'utilizzo del software da parte dell'inps ribadendo la nozione di necessità del trattamento dei dati personali e la legalità dell'istituzionalizzazione di processi digitali nella pubblica amministrazione la decisione della corte offre un punto di partenza per il dibattito sull'elaborazione di dati nel contesto sanitario dove anche i dati sensibili e i dati personali sono ampiamente utilizzati per scopi diagnostici terapeutici e amministrativi la sentenza solleva nuove domande sul ruolo dell'utilizzo dei dati personali in contesti clinici e suggerisce che la questione del trattamento dei dati sanitari deve essere correlata al trattamento clinico e alla nozione di necessità dell'articolo 9 del gdpr nel tardo pomeriggio di martedì 25 aprile la società i space ha fallito l'atterraggio sulla superficie lunare del lander acuto r che sarebbe stato il primo mezzo robotico inviato sulla luna da una società giapponese considerando i dieci anni di sviluppo e il primo finanziamento di 20 milioni di dollari nel 2013 questo fallimento è stato un duro colpo per l'azienda tuttavia in una nota di aggiornamento ha comunque dichiarato di essere in parte soddisfatto del risultato grazie alla raccolta di una buona mole di dati che verranno utilizzati per migliorare la tecnologia e tentare un secondo allunaggio in futuro ad oggi gli unici paesi che sono riusciti a inviare un lander sulla luna sono stati uniti cina e russia ma sappiamo anche che prima di arrivare a un traguardo simile sono stati compiuti innumerevoli test e in gran parte falliti ma ognuno di essi è risultato fondamentale per migliorare i sistemi che non hanno funzionato e arrivare così all'obiettivo prestabilito negli ultimi giorni sta facendo molto discutere il testo di una nuova norma presentata dalla commissione europea il cyber resilience act con l'obiettivo di rendere più sicuri tutti quei dispositivi che si connettono a internet in pratica tutti questi dispositivi come smartphone sensori elettrodomestici smart con questa norma dovrebbero essere dotati di una certificazione che garantisce la presenza dei principali requisiti di sicurezza questa proposta però come dicevamo ha sollevato parecchie preoccupazioni nella comunità open source ossia quei software in cui il codice sorgente è accessibile a tutti e chiunque può portare un proprio contributo gli stessi sistemi operativi come android o linux per fare un esempio sono open source e si calcola che tra il 70 e il 90 per cento dei progetti commerciali e non sia costituito proprio da componenti rilasciati con licenza libera e il testo presentato dalla commissione per come è scritto al momento non fa differenza tra prodotti commerciali e prodotti open source in pratica se un codice con licenza open utilizzato in un prodotto commerciale risultasse non sicuro la responsabilità ricadrebbe su chi ha rilasciato quel componente gratuitamente con multe che possono raggiungere anche i 15 milioni di euro fortunatamente le preoccupazioni sollevate dalle principali comunità open source come python foundation stanno avendo successo e la commissione europea sta lavorando per rendere la norma più chiara verso queste tipologie di software la speranza quindi è che il testo che verrà presentato il prossimo 25 maggio venga sistemato anche in collaborazione con la comunità open e che venga trovato anche un compromesso tra la sicurezza informatica richiesta e la tutela degli sviluppatori indipendenti se dovessimo dare una data di nascita per il world wide web quella sarebbe sicuramente il 6 agosto del 1991 quando l'informatico tin berners lee pubblicò il primo sito web del mondo e da allora il web come abbiamo più volte detto ha vissuto una rapida evoluzione che l'ha portato a quello che conosciamo oggi passando dal web 1.0 al web 2.0 ma in futuro come si trasformerà il world wide web ad oggi infatti sono moltissime le strade percorribili e la rete internet sempre più complessa e sempre più connessa permette di fare cose che fino a pochi anni fa erano destinate solamente ai libri e ai film di fantascienza e dunque sono anche molte le applicazioni che ogni giorno nascono e si pongono l'obiettivo di tracciare la strada maestra che percorrerà l'evoluzione del web dal metaverso alla blockchain alla rete tor al web semantico tutti i temi che abbiamo singolarmente trattato ampiamente in questa puntata però ci concentreremo su due di queste strade dal nome molto simile tra loro ma che adottano approcci notevolmente diversi queste nuove evoluzioni del web sono chiamate web 3 e web 3.0 e durante il corso di questa puntata andremo appunto ad analizzarle scoprirne le differenze e soprattutto capire se potranno essere veramente il futuro della navigazione online prima di cominciare però facciamo un piccolo passo indietro a quell'agosto 1991 dove è nato il web o meglio il web 1.0 questa prima versione era caratterizzata da pagine statiche ossia con contenuti mutabili dove gli utenti potevano interagire solamente navigando e spostandosi da una pagina all'altra attraverso i collegamenti ipertestuali la sua funzione quindi era solo ed esclusivamente consultiva e poteva essere usata per condividere informazioni notizie o creare una vetrina per la propria attività chi conosceva il linguaggio html e css poteva spingersi a creare anche un proprio blog che doveva essere aggiornato manualmente aggiungendo link e pagine web con una potenza di calcolo sempre maggiore da parte dei server l'introduzione di nuovi linguaggi di programmazione come javascript o php e sempre più persone connesse a internet si è introdotto poi quasi subito il web 2.0 che è quello che conosciamo e utilizziamo ancora oggi regolarmente questo ha permesso che gli utenti non fossero solo dei semplici spettatori in internet ma fossero una parte attiva che potessero aggiungere contenuti parlare tra loro avere delle proprie pagine personali e così via dopo il web 1.0 e il web 2.0 quindi la versione 3.0 sembrerebbe il naturale proseguimento di questa tecnologia ma di cosa si tratta la risposta viene dallo stesso tim berners lee l'inventore del world wide web che già nel 1998 con la fondazione del consorzio v3c che definisce gli standard e i protocolli legati al web aveva tracciato il solco e le basi per questa nuova versione chiamata web semantico ossia un web che non sia solo machine representable ma sia anche machine understandable spieghiamolo meglio ad oggi la stragrande maggioranza delle pagine online sono fatte di contenuti statici come blog vetrine o enciclopedie seguendo quindi ancora la filosofia del web 1.0 questi contenuti sono formati da pagine file in formato html che hanno una struttura ben precisa che permette di creare paragrafi titoli test in grassetto tabelle collegamenti ipertestuali tra le pagine dello stesso sito di siti diversi e così via il computer o meglio il browser riesce a convertire questa struttura nelle pagine web che poi vediamo formattando ogni elemento così come è stato definito e rendendolo visivamente leggibile per gli utenti e da qui la definizione di machine representable la macchina in questo caso il browser riesce infatti a rappresentare la pagina web ma non riesce in alcun modo a comprenderne il significato dal suo contenuto le pagine web machine understandable invece superano questo limite andando ad aggiungere elementi ulteriori nella struttura della pagina che ne definiscano il significato e il contesto attraverso sequenze di soggetto predicato e oggetto questo concetto l'avevamo già trattato nella puntata il futuro del web tra open source e open data riportando l'esempio della nascita di albert einstein in questo esempio la frase albert einstein è nato nel 1879 nel web semantico sarebbe tradotto appunto in una sequenza di soggetto predicato e oggetto in cui albert einstein è associato ad una rappresentazione digitale di einstein è nato a un altro elemento che definisce l'atto del nascere e il dato 1879 il soggetto albert einstein in questo modo può essere ricollegato anche ad altre sequenze di predicati e oggetti non solo della stessa pagina ma in tutte le pagine web di internet che richiamando lo stesso riferimento al noto scienziato riescono in questo modo a ricostruire l'intera vita e l'intera informazione che il web fornisce su einstein e questo attraverso dei linguaggi simili all'html definiti dal consorzio v3c chiamati rdf acronimo che sta per resource description framework e ovl che sta per web ontology language linguaggi che proprio come l'html i computer riescono a comprendere e permettono loro di capire il significato delle frasi e il contesto in cui si trovano da qui la definizione di machine understandable in questo modo se vogliamo cercare la data di nascita di einstein ecco che il motore di ricerca può fornire un'informazione esatta e precisa proprio perché il computer è assolutamente certo del significato della frase albert einstein è nato nel 1879 tuttavia siamo ancora ben lontani da questo ideale del web pensato da tim berners lee tradurre in web 3.0 le pagine del web sarebbe infatti compito degli sviluppatori che raramente adottano questo linguaggio sia per motivi di tempo che di difficoltà nella gestione e creazione della pagina va poi aggiunto che molto spesso i contenuti online non sono scritti direttamente in html da programmatori ma sono pagine gestite da siti chiamati cms o content management system che permettono agli utenti di scrivere articoli e contenuti in modo visuale proprio come se stessero scrivendo su un documento di testo le stesse enciclopedie online come wikipedia sono gestite in questo modo e gli utenti difficilmente riuscirebbero ad aggiungere le informazioni semantiche di cui ha bisogno il web 3.0 un esempio di web 3.0 viene però da un'altra enciclopedia chiamata wiki data e creata dalla stessa wikimedia foundation che ha creato wikipedia qui l'intera informazione è rappresentata proprio come un enorme tabella fatta di predicati e oggetti con i relativi riferimenti che ne danno la definizione e paragonando wikipedia wikidata la grande differenza che salta subito all'occhio è proprio la modalità di fruizione dell'informazione da una parte molto più leggibile per l'uomo dall'altra comprensibile dalla macchina ma meno vicino al linguaggio naturale in questo campo poi entra in gioco l'intelligenza artificiale che grazie a una struttura di questo tipo sarebbe enormemente facilitata nel comprendere i testi online e sarebbe molto più precisa e meno incline ad errori tuttavia e lo stiamo vedendo proprio in questi mesi le intelligenze artificiali hanno fatto dei progressi enormi nella capacità di comprendere il linguaggio naturale tanto che potrebbero rendere il passaggio al web 3.0 per certi aspetti superato il parallelismo più adatto in questo caso è forse quello delle auto a guida autonoma se le strade e i segnali stradali fossero sviluppati per essere comprensibili sia dalle auto che dagli esseri umani i sistemi a guida autonoma sarebbero perfettamente sicuri e funzionanti probabilmente l'intelligenza artificiale nemmeno servirebbe tuttavia andrebbe ripensata e realizzata da zero l'intera infrastruttura stradale con costi e lavori insostenibili per gli stati l'intelligenza artificiale invece riesce a risolvere questi problemi adattandosi cercando di capire il significato della segnaletica stradale con tutti i rischi che ne conseguono allo stesso modo le nuove intelligenze artificiali riescono a comprendere le frasi che trovano online evitando di ricostruire l'intera infrastruttura delle pagine web a inizio puntata abbiamo però parlato di un'altra strada che il web potrebbe percorrere nel prossimo futuro ed è il web 3 da non confondersi con il web 3.0 di cui abbiamo parlato finora nonostante il nome molto simile infatti questa concezione è nata molto più di recente e il suo sviluppo è portato avanti da ethereum la blockchain di cui abbiamo parlato più volte nel corso delle puntate di questo podcast più che un'evoluzione del web infatti il web 3 è un nuovo concetto di come funziona lo stesso internet che dovrebbe passare dall'essere un sistema fortemente centralizzato a uno completamente decentralizzato cosa significa come abbiamo più volte spiegato ad oggi i servizi web si trovano quasi tutti in enormi centri con migliaia di server che gestiscono le richieste degli utenti centri di proprietà di google microsoft amazon e delle principali multinazionali del web e del cloud che vanno di fatto a monopolizzare internet e l'accesso all'informazione con la decentralizzazione invece chiunque può contribuire e fornire la potenza di calcolo e lo spazio di un suo computer per far funzionare le applicazioni chiamate di app sviluppate per il web 3 in sostanza ogni nodo della rete è sia client che server e ognuno detiene parte delle informazioni di internet questo rende la rete e le di app molto più sicure e resilienti ad attacchi informatici e a censure e molto più democratiche in quanto non esisterebbe più il monopolio di pochi e alla base del nuovo internet ovviamente ci sarebbe la blockchain che garantisce affidabilità anonimato e assoluta sicurezza delle informazioni per accedere all'id app non sarebbe più necessario un login con username e password o con metodi come accedi con google ma basterebbe usare il proprio portafoglio ethereum con cui si riuscirebbero a sbloccare i contenuti a cui solo noi avremmo accesso ogni operazione però va specificato richiederebbe la spesa di una parte del proprio credito sul portafoglio digitale costo che serve proprio a sostenere l'intera struttura decentralizzata per fare qualche esempio le transazioni non sarebbero controllate da banche o enti centralizzati e gli artisti potrebbero vendere e guadagnare dalle proprie opere o canzoni in modo diretto senza passare da enti come siae e case discografiche con gli nft inoltre si può stabilire la proprietà di oggetti digitali come opere d'arte ma anche i post sui social o monete e oggetti in un gioco online tutte cose di cui abbiamo già ampiamente parlato alcuni esempi di applicazioni decentralizzate già esistono come audius che è l'alternativa decentralizzata a spotify brave un browser che blocca annunci pubblicitari e permette di raccogliere criptovalute minds che si propone come un'alternativa ai principali social network di tube come alternativa youtube nell'ambito dell'archiviazione poi esiste il progetto degli ipfs acronimo che sta per interplanetari file system un protocollo che permette di archiviare file su una rete decentralizzata e conservarli idealmente per sempre più nodi partecipano all'ipfs più la rete diventa stabile sicura e veloce anche nel web 3 però esistono delle problematiche innanzitutto il processo per passare da un sistema centralizzato a uno decentralizzato è ancora molto lungo e difficilmente aziende come google microsoft facebook o amazon lasceranno il loro monopolio sul web gli stessi utenti dovrebbero cominciare ad adottare questo nuovo approccio e una nuova mentalità ma per molti il costo della transizione per far funzionare l'intero sistema delle di app è ancora molto elevato per non parlare poi del problema ambientale della blockchain che però ethereum sta già cercando di risolvere cambiando completamente la modalità con cui si minano le criptovalute l'interfaccia utente sono poi ancora molto acerbe e poco intuitive rendendo di fatto accessibile l'utilizzo delle di app solo a pochi esperti affinché si arrivi al traguardo della decentralizzazione servirebbe quindi che gli utenti iniziassero a comprendere meglio il funzionamento del web di internet e delle potenzialità di un sistema decentralizzato diventando utenti consapevoli del mondo online traguardo che purtroppo è ancora ben lontano dall'essere raggiunto quale sarà quindi il futuro del web web 3 web 3.0 probabilmente in futuro queste tecnologie potranno e anzi sicuramente coesisteranno tra loro assieme al web 2.0 e al web 1.0 che difficilmente verranno rimpiazzati e al fianco magari nasceranno ulteriori nuove tecnologie che saremo sempre pronti a raccontarvi e che renderanno il web un posto sempre più tra virgolette variegato e accessibile a tutti e così si conclude questa puntata di insider dentro la tecnologia io ringrazio come sempre la redazione e in special modo matteo gallo e luca martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione chiocciola dentro la tecnologia punto it seguiteci su instagram chiocciola dentro la tecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità noi ci sentiamo la settimana prossima ciao